Dovremo attendere i prossimi giorni, vedere lo sviluppo della situazione, il suo impatto reale sulla vita di tutti i giorni perché è questo che poi condiziona l'aspetto dei consumi, condiziona il flusso di merci, di capitale e di persone che sono l'anima della nostra economia, quindi solo fra qualche giorno o settimana potremmo fornire una valutazione ripeto razionale, tranquilla ma soprattutto certa. Ancora molti gli interrogativi in cerca di risposte ma è senz'altro in dubbio che l'impatto del coronavirus sull'economia preoccupa e non poco spaventano infatti i possibili effetti sul sistema produttivo aretino, uno dei più globalizzati dell'intera Italia. A livello nazionale la nostra è la seconda provincia per intensità di export in rapporto alla popolazione circa l'80% del PIL provinciale matura sui mercati del mondo soprattutto appannaggio delle imprese della moda, oltre 1.200 imprese del settore orafo, 8.000 dipendenti, dicevo le imprese della moda, 2.000 imprese con oltre 14.000 addetti, imprese che operano sui mercati globali con flussi di merci, di persone e di capitali. Ecco la nostra preoccupazione è che questi flussi rallentandosi possano avere un qualche effetto sulle dinamiche di crescita. L'altra nostra preoccupazione è ovviamente per il consumo interno, per i tanti esercizi di vicinato, per il turismo. Quindi le prime nostre sensazioni sono quelle di un possibile rallentamento nei prossimi mesi. Si rendono sempre così più necessarie misure per limitare l'impatto del coronavirus sull'economia. Quindi con un'attenzione particolare la fiscalità, quelli che ovviamente possono rinviare anche delle scadenze che le nostre imprese appunto per le difficoltà che si trovano ad affrontare forse non riusciranno, possono ovviamente non riuscire ad onorare, quindi tutta la capacità produttiva che viene in qualche modo messa in discussione, quindi anche quella di mercato, dovrebbe essere tenuta in conto anche per eventualmente valutare delle moratorie per i mutui. Quindi tutto ciò che può contribuire a mantenere comunque un'azienda in un equilibrio che capiamo è difficile in momenti come questi.